Credo che le proposte di un approfondimento in Giunta e presso altre sedi come la Corte Costituzionale o organi internazionali dovrebbe essere la via da seguire. Non mi pare che ci sia questo orientamento nella Giunta, è chiaro che tutto questo sta facendo crescere di molto le tensioni. Se, come molti sostengono, Berlusconi ha diritto di difendersi, negare questo diritto rispetto alle numerose questioni che era il relatore a posto, vuol dire affermare una cosa e farne un'altra, con conseguenze di natura politica di cui il Partito Democratico si sta assumendo interamente le responsabilità. Quindi oggettivamente la situazione diventa sempre più complessa e tesa.